Questo concerto è veramente il riassunto di tutto quello in cui noi che abbiamo scelto di fare della nostra vita un sacrificio per l'arte, che sia nella forma della musica, che sia nella forma della televisione, del teatro, del cinema. Viviamo tutti i giorni con un unico obiettivo, quello di regalare emozioni. Questa sera, signori, in una parola solo, con pace in ternis. Noi vogliamo regalare tutto questo. Grazie a tutti ciascuno per la presenza di un evento culturale e sacro dedicato a Papa Francesco. Grazie a tutti. Grazie a tutti.